Tre gare, forse anche all'ospensione di una quarta partita. Il Manfredonia si gioca tutto in due settimane, da domenica prossima fino al 5 maggio. I Sipontini, dopo la gara, sospesa con tanto di triplice fischio contro la Palmese e lo 0-0 interno di domenica scorsa con il Rotonda al Miramare, ripartono da questa situazione di classifica. 37 punti, 2 di vantaggio sulla zona play-out. C'è poco da scherzare, insomma. È chiaro che i punti pesano e probabilmente questo ha inciso nella testa dei miei ragazzi perché, sai, dopo la partita di Palma Campani, dopo succede tutto quello che poi alla fine appunto è successo, qualcosa ti rimane nell'inconscio, quindi ti toglie serenità. La squadra probabilmente ne ha risentito, è stata un po' contratta. Andiamo ad Andrea, poi giocheremo in casa col Casarano, andremo a Gravina per far punti perché in Serie D ci dobbiamo rimanere. Penso che ce lo meritiamo per tutte le difficoltà incontrate fino a questo punto. Fidelisanne in trasferta domenica prossima a Casarano al Miramare il 28 aprile e Gravina al Vicino il 5 maggio. 9 punti in palio in attesa dell'esito della Corte Sportiva d'Appello sul ricorso presentato insieme alla Palmese. Contro la decisione del giudice sportivo di assegnare la sconfitta a tavolino ad entrambe e un punto di penalizzazione in classifica. I Sipontini sperano che venga annullato il meno uno e che si possa procedere con la prosecuzione della partita al comunale di Palma Campania. Si ripartirebbe naturalmente dal quarto minuto della ripresa e dal punteggio di 2 a 2. Prima però c'è la Fidelis, fischio d'inizio alle ore 15 per il derby in programma domenica al Begli Olivi. Non ci sarà a centrocampo lo squalificato Giacobbe 200. Invece i biglietti messi a disposizione per i tifosi Sipontini. Franco 5 per questo rush finale di stagione chiede massima compattezza a tutte le componenti con la quota salvezza che sembra essere lievitata nelle ultime settimane. Servono probabilmente almeno altri 4 punti al Manfredonia per non correre rischi. Sono uno che dice che insieme si vince, insieme tutti, ognuno ha il proprio ruolo. Non c'è un'importanza in ordine cronologico, tutti sono importanti, dai tifosi alla società, all'allenatore, ai giocatori. Però dobbiamo avere un unico obiettivo, quello di fare questi punti per permetterci appunto di ripartire dalla Serie D che per Manfredonia è un campionato che merita e che vuole tutti i costi.